Bartleby, lo scrivano Sono un uomo piuttosto avanti negli anni. La natura della mia professione mi ha portato, nel corso degli ultimi tre decenni, in contatto, e non soltanto nel solito contatto, con una categoria di uomini interessante all'apparenza, e in qualche modo singolare, sui quali, per quanto ne so finora, non è mai stato scritto nulla. Mi riferisco ai copisti regali, ovvero agli scrivani. Nella mia vita professionale e privata ne ho conosciuti moltissimi, e se volessi potrei raccontare varie storie che farebbero sorridere i benevoli e piangere i sentimentali. Ma per qualche brano sulla vita di Bartleby, il più strano che abbia mai visto o conosciuto, rinuncio alle biografie di tutti gli altri. Mentre di molti scrivani potrei narrare l'intera vita, non si può fare nulla del genere per Bartleby. Non esiste materiale, ne sono convinto, per comporre una biografia completa e soddisfacente di quel uomo. È una perdita irreparabile per la letteratura. Bartleby fu uno di quegli individui sui quali non si riesce ad accertare nulla, senza risalire alle fonti originali. Nel suo caso molto esigue. Quello che videro ai miei occhi attoniti, ecco ciò che so di Bartleby, tranna in vero una vaga notizia che apparirà in seguito. Prima di introdurre lo scrivano, quale mi apparve la prima volta, è opportuno che accenni a me, ai miei impiegati, al mio lavoro, al mio ufficio e all'ambiente in generale, perché si tratta di notizie indispensabili per capire adeguatamente il protagonista, che fra poco presenterò. Innanzitutto sono un uomo che da quando era giovane in poi ha maturato una profonda convinzione. Nella vita la via più facile è anche la migliore. Ne consegue che pur esercitando una professione notoriamente esuberante e a volte concitata al limite della turbolenza, non ho mai lasciato che cose del genere invadessero la mia pace. Sono uno di quegli avvocati senza ambizioni, che mai si rivolgono alla giuria, e in nessun modo cercano l'applauso del pubblico, ma che nella tranquilla frescura di un angolino appartato e discreto si dedicano al lavoro discreto, fra titoli, obbligazioni e ipoteche di uomini benestanti. Quelli che mi conoscono mi considerano una persona prevalentemente cauta e fidata. Il compianto John Jacob Astor, personaggio poco incline ai voli pindarici, non esitava a dichiarare che la mia prima virtù era la prudenza, la seconda il metodo. Non dico questo per vanità, ma solo per confermare il fatto di aver prestato i miei servizi al compianto John Jacob Astor, nome che adoro ripetere, lo confesso. Possiede infatti un suono rotondo e sferico, tintinnante come l'oro. Aggiungerò inoltre di essere stato sensibile alla buona opinione che aveva di me il defunto John Jacob Astor. Qualche tempo prima dell'epoca in cui cominciò questa breve storia, il mio lavoro era molto aumentato. Mi era stato conferito il buon vecchio incarico di giudice dell'Alta Corte di Equità, ufficio ormai abolito nello Stato di New York. Non era un incarico molto pesante, ma molto ben retribuito. Raramente però perdo la calma, e ancora più raramente mi abbandono a una pericolosa indignazione davanti ai torti e agli oltraggi. Ma mi si lascia a questo punto essere avventato. Dichiaro che a parer mio l'abrogazione subitanea e violenta dell'ufficio di giudice dell'Alta Corte di Equità da parte di qualche nuova legge fu un atto prematuro, tanto più che avevo contato su quei benefici per il resto della mia vita, mentre ne ho detti soltanto per alcuni brevi anni. Questo si ha detto tra parentesi. Il mio ufficio era il primo piano di Wall Street. Da una parte le finestre si affacciavano sul muro bianco di un ampio cavedio, illuminato da un lucernario che attraversava la casa da cima a fondo. Questa veduta forse poteva sembrare più scialba che suggestiva, mancando a quanto pare di quello che i pittori paesaggisti definiscono vita. Ma se era così, la vista, sull'altro lato dell'ufficio, offriva almeno un contrasto. Su quel versante le finestre dominavano in pieno la vista di un alto muro di mattoni, annerito dagli anni e incupito dalla perenne ombra. Non occorreva che un cannocchiale ne mostrasse le bellezze nascoste, perché, a beneficio degli osservatori miopi, queste risaltavano a meno di dieci piedi dai vetri delle mie finestre. La circostanza che gli edifici intorno fossero molto alti e che il mio ufficio fosse al primo piano, faceva sì che lo spazio fra questo muro e il mio assomigliasse a un'enorme cisterna quadrata. Nel periodo appena precedente all'arrivo di Bartleby avevo al mio servizio due persone in qualità di scrivani e un ragazzo promettente che faceva da fattorino. Il primo, Tacchino, il secondo, Pinsness, il terzo, Zenzero. Nomi questi che non si trovano forse nei registri. A dire il vero erano nomignoli che ai tre si erano reciprocamente affibbiati e pareva esprimevano bene le rispettive persone e i rispettivi caratteri. Tacchino era un inglese basso e asmatico della mia stessa età, cioè non lontano dai sessant'anni. Al mattino, si potrebbe dire, il suo viso aveva un bel colorito florido, ma dopo mezzogiorno, l'ora del pranzo, si accendeva come una grata del caminetto a Natale e continuava a fiammeggiare, ma per così dire smorzandosi a poco a poco, fino alle sei o giù di lì, dopodiché non vedevo più il proprietario di quella faccia che raggiungendo il pieno fulgore con il sole sembrava tramontare con questo per sorgere, culminare, declinare il giorno successivo con altrettanta regolarità e pari gloria. Esistono molte coincidenze singolari che ho conosciuto nel corso della vita, non ultima è quella che proprio quando Tacchino irradiava tutto il suo fulgore dal volto rosso e raggiante, soltanto allora, in quel momento critico, aveva inizio la fase quotidiana nella quale, a parer mio, le sue capacità professionali erano gravemente compromesse per ciò che restava delle ventiquattro ore della giornata. Non che allora rimanesse a girarsi i pollici o mostrasse avversione al lavoro, lungi da ciò, anzi, il guaio era che si affacendava troppo, cadeva in preda a una strana furia caotica e pasticciona. Era sbadato nell'intingere la penna nel calamaio, le macchie sui documenti cadevano tutte allora, dopo le dodici. In vero, nel pomeriggio non era soltanto sventato e tristemente incline a fare macchie, ma in alcuni giorni ne combinava di peggio e si faceva rumoroso. In queste occasioni la sua faccia attesa vampava ancora di più, quasi che sull'antracite avessero ammucchiato carbone, tipo Chanel. Con la sedia faceva rumore a non finire, rovesciava lo scatolino della sabbia. Nell'aggiustare le penne, per l'impazienza le faceva a pezzi e le buttava per terra, preso dalla rabbia. Si alzava, si sporgeva oltre il tavolo, metteva a soquadro le carte in modo addirittura indecoroso. Insomma, davvero uno spettacolo triste in un uomo della sua età. E ciò nonostante per me un collaboratore prezioso, che fino a mezzogiorno si dimostrava, come pochi, persona pronta, equilibrata e assidua, capace di svolgere una grande massa di lavoro, di qualità non facilmente ugualiabile. Ecco perché chiudevo un occhio sulle sue bizzarrie, sebbene di tanto in tanto, in vero, gli rivolgessi le mie rimostranze. Lo facevo con molto tatto, perché, mentre al mattino era il più civile, garbato, rispettoso degli uomini, nel pomeriggio, se provocato, rischiava di ricorrere a parole un po' avventate, anzi, insolenti. Ora, valutando altamente il suo lavoro mattutino, e non volendo privarmi del suo aiuto, ma al tempo stesso trovandomi piuttosto disturbato dai suoi modi incendiali del pomeriggio, essendo inoltre un uomo pacifico, poco portato a provocare coi miei rimbrotti disdicevoli risposte, un sabato a mezzogiorno, il sabato era peggio degli altri giorni, mi avventurai a suggerirgli, molto gentilmente, che forse, da tal'età, avrebbe fatto bene a ridurre le ore di lavoro, in breve, che non aveva nessun bisogno di tornare in ufficio nel pomeriggio, ma che dopo il pranzo avrebbe fatto meglio a recarsi a casa sua e riposare fino all'ora del tè. Ma non ci fu verso, esigeva di lavorare anche nel pomeriggio, si infervorò anzi, in modo pauroso, mentre dal fondo della stanza si sbracciava ad assicurarmi, con gesti oratori ed imenando una lunga riga, che se il suo lavoro antimeridiano era utile, addirittura indispensabile, risultava quello pomeridiano. Salvo il vostro rispetto, signore, mi dichiarò Tacchino in quell'occorrenza, io mi considero il vostro braccio destro. Nel mattino mi limito a irregimentare e disporre le mie schiere, ma nel pomeriggio mi metto alla loro testa e coraggiosamente calico contro il nemico, così, e compì un violento affondo con la riga. Ma e le macchie Tacchino insinuai io. È vero, ma salvo il vostro rispetto, signore, osservate questi miei capelli. Sto diventando vecchio. Certo, signore, che una macchia o due che mi sfuggano nel calore del pomeriggio non possono venire troppo severamente rinfacciate ai miei capelli grigi. La vecchiaia, anche se macchia la pagina, è onorevole. Salvo il vostro rispetto, signore, ma ambedue stiamo invecchiando. Difficile resistere a quell'appello alla mia solidarietà. Capivo, comunque, che di andarsene non se ne parlava. Decisi perciò di lasciarlo stare, stabilendo però di fare in modo che nel pomeriggio trattasse documenti di minore importanza. Pinsinez, il secondo della lista, era un giovanotto di circa 25 anni, dall'ognolo, con basette e nell'insieme con un'aria piratesca. Ho sempre ritenuto che fosse la vittima di due influssi malefici, l'ambizione e la cattiva digestione. L'ambizione si manifestava in una certa insofferenza per i compiti di mero copista, che inammissibilmente usurpavano gli affari strettamente professionali, come la stesura originale di documenti legali. Quanto alla cattiva digestione, ne erano sintomi una saltuaria irascibilità e ringhiosa irritabilità, che gli facevano arrotare i denti in modo udibile per errori commessi nel copiare. Imprecazioni inutili, similate più che scandite a parole nell'incalzare del lavoro e soprattutto la perpetua scontentezza per l'altezza della scrivania. Sebbene avesse un'inclinazione ingegnosa alla meccanica, Pinsinez non riuscì mai ad adattare il tavolo alle proprie esigenze. metteva sotto pezzi e pezzettini di vario genere, blocchetti di cartone. Per ottenere uno squisito equilibrio arrivò all'estremo tentativo di utilizzare strisce di carta assorbente piegata. Ma inutili erano tutti i colpi di genio. Se per dar sollievo alla schiena alzava il ripiano del tavolo ad angolo acuto portandoselo quasi sotto il mento e vi lavorava come chi usasse per scrivere il tetto spiovente di una casa olandese allora dichiarava che così gli si bloccava la circolazione delle brazza. Se allora abbassava il tavolo fino alla vita e vi si piegava sopra per scrivere ecco che insorgeva un acuto dolore alla schiena. Insomma la verità era che Pinsinez non sapeva quello che voleva oppure se qualcosa voleva era di sbarazzarsi una volta per tutte del tavolo da scrivano. Fra le manifestazioni della sua morbosa ambizione c'era una propensione entusiastica a ricevere le visite di certi individui roschi intavarrati malconce palandrane che egli chiamava suoi clienti. Ero al corrente in verità che non soltanto si dava da fare a volte in una circoscrizione elettorale ma di tanto in tanto sbrigava qualche faccenduola in tribunale e non era sconosciuto sui gradini delle tombe. Ho tuttavia buone ragioni di ritenere che almeno un individuo uno che veniva a trovarlo in ufficio e che lui con grandi arie si ostinava a chiamare suo cliente altri non fosse se non un esattore che gli stava alle costole e il presunto titolo di credito una cambiale. Ma con tutte le sue manchevolezze e i fastidi che mi procurava Pinsnez come il suo compatriota Tacchino mi era molto utile scriveva con mano rapida e nitida e quando gli garbava non gli mancavano maniere da gentiluomo e da gentiluomo si vestiva sempre dando così incidentalmente lustro al mio studio con Tacchino invece dovevo adoprarmi perché non mi facesse sfigurare i suoi abiti erano spesso unti e puzzavano di trattoria l'estate portava pantaloni larghi e sformati le giacche erano esecrabili il cappello poi meglio non toccarlo ma se il cappello mi era indifferente perché la naturale urbanità e la differenza da impiegato inglese lo inducevano a toglierselo nell'istante in cui varcava la soglia la giacca invece era tutt'altro affare ne ragionai con lui a proposito dell'argomento giacca ma senza risultato la verità era credo che un uomo con uno stipendio così modesto non poteva permettersi di esibire simultaneamente una faccia smagliante e una giacca smagliante come osservò una volta Pince Nez i soldi di Tacchino andavano quasi tutti in inchiostro rosso un giorno d'inverno regalai a Tacchino una mia giacca dall'aria molto rispettabile grigia imbottita dava un delizioso calduccio e si abbottonava dalle ginocchia in su fino al collo pensavo che Tacchino apprezzando quel favore avrebbe mitigato la sventatezza e la chiassogità pomeridiane ma che credo davvero che l'abbottonarsi in quella giacca morbida che pareva una coperta avesse su di lui un effetto pernicioso per lo stesso principio che la troppa biada fa male ai cavalli infatti proprio come un cavallo impetuoso e recalcitrante si dice che senta la biada così Tacchino sentiva la giacca lo rendeva insolente era un uomo che la prosperità guastava sebbene sulle abitudini rilassate di Tacchino io avessi le mie personali opinioni per quanto concerne Pinsnez ero persuaso che quali potessero essere i suoi difetti in altri campi egli fosse un giovane assai morigerato infatti si sarebbe detto che la natura stessa avesse pensato lei a fungergli da oste e che alla nascita gli avesse versato in corpo una natura così alcolica da rendere inutile ogni successiva libagione quando ricordo come nel tranquillo silenzio del mio ufficio Pinsnez improvvisamente balzasse dalla sedia e curvandosi sul tavolo spalancasse le braccia afferrasse il tavolo e lo muovesse e lo sbattesse a destra e a sinistra imprimendogli il sinistro moto di una macina quasi il tavolo fosse dotato di una perversa volontà personale e non mirasse ad altro che a dargli noia e a rendergli difficile il lavoro ma accorgo chiaramente che per Pinsnez i ponci erano completamente superfui per fortuna data la particolare causa e cioè la cattiva digestione di questo suo stato d'animo l'irritazione e la conseguente nervosità di Pinsnez si manifestavano soprattutto al mattino mentre nel pomeriggio era relativamente tranquillo cosicché siccome le crisi di Tacchino lo coglievano solo a partire da mezzogiorno io non dovevo mai godermi più di un pazzo alla volta i loro capricci si davano il cambio come montassero la guardia quando era di turno a Pinsnez Tacchino smontava e viceversa date le circostanze questa poteva considerarsi una sistemazione relativamente soddisfacente Zenzero il terzo della mia lista era un monello di circa 12 anni suo padre faceva il carrettiere ma covava l'ambizione di potere prima di morire vedere suo figlio sulla scranna di un tribunale anziché sulla panca di un carro così che me l'aveva mandato in ufficio come studente di legge fattorino e scopatore al salario di un dollaro la settimana possedeva anche lui un piccolo tavolo ma non se ne serviva molto chi l'avesse ispezionato avrebbe trovato nel cassetto un notevole sortimento di gusci di noce infatti per questo sveglio ragazzo l'intera nobile scienza del giure si trovava tutta racchiusa in un guscio di noce una delle occupazioni più importanti di Zenzero e quella che sbrigava con maggiore alacrità era di andare a comprare biscotti e mele per tacchino e pincnez copiare documenti legali è per definizione una occupazione arida e così i due scrivani avevano l'abitudine di inumidirsi la bocca con delle mele spizzenberg che facevano acquistare in una delle tante bancarelle così frequenti nei pressi della dogana e della posta molto di frequente inoltre mandavano Zenzero a comprare quelle particolari focaccine piccole piatte rotonde molto speziate che avevano suggerito quel soprannome nelle mattine fredde mentre il lavoro era torpido tacchino ingoiava dozzine di queste focaccine quasi fossero cialde sottilissime ne danno addirittura 6 o 8 per un centesimo mentre lo scricchiolio della penna si mescolava al rumore della bocca che sgranocchiava quelle focaccine croccanti fra i clamorosi sbagli pomeridiani commessi da tacchino nella sua smania pasticcione ce ne fu uno che per un pelo non mi indusse a licenziarlo mi capitò di inumidire fra le labbra una cialda allo zenzero e appiccicarla su un'ipoteca a mo' di sigillo ma mi intenerì con un inchino di orientale cerimoniosità e con queste parole con rispetto signore è stato un gesto generoso rifornirla a mie spese di cancelleria ora la mia attività originaria quella di redigere atti notarili di spulciare nella regolarità dei titoli di stendere oscuri documenti di varia natura ebbe un considerevole incremento dopo che fui nominato all'alta corte di equità c'era quindi molto lavoro per i copisti non soltanto dovevo mettere sotto il torchio gli impiegati già con me ma dovevo procurarmi altro aiuto in risposta a un annuncio una bella mattina si parò immobile sulla soglia del mio ufficio un giovane la porta infatti era aperta perché era estate rivedo ancora quella figura pallidamente linda penosamente decorosa irrimediabilmente squallida era Bartleby dopo qualche cenno sulle sue qualifiche lo assunsi felice di avere nella mia squadra di copisti un uomo dall'aspetto così singolarmente mite che pensavo forse avrebbe avuto un benefico influsso sull'irrequietezza di Tacchino e sull'irruenza di Pinsnez avrei dovuto già accennare alle porte pieghevoli di vetro smerigliato che dividevano in due il mio ufficio da una parte c'erano i miei scrivani dall'altra c'ero io a seconda dell'umore aprivo le porte oppure le chiudevo decisi di assegnare a Bartleby un angolo accanto alle porte pieghevoli ma dalla mia parte in modo da avere a portata di voce quell'uomo tranquillo se per caso si fosse dovuto sbrigare qualche lavoretto sistemai dunque la sua scrivania in quella parte della stanza accanto a una finestrina laterale che in origine offriva uno scorcio sul retro affacciandosi su certi cortili sporti e muri di mattoni ma che allora a seguito di successive costruzioni non si affacciava più su nulla sebbene lasciasse entrare un po' di luce a meno di tre piedi dai vetri della finestra c'era un muro e la luce veniva da molto in alto filtrando tra due alti edifici quasi piovesse dal pertugio di una cupola per rendere ancora più soddisfacente la sistemazione mi procurai un altro paravento verde pieghevole che poteva escludere completamente Bartleby dalla mia vista pur lasciandolo a portata di voce così in certo modo convivevano solitudine e compagnia in un primo tempo Bartleby eseguì una straordinaria mole di lavoro quasi fosse ingordo di avere qualcosa da copiare pareva volesse rimpinzarsi di documenti non c'era pausa per digerirli scriveva giorno e notte copiando alla luce del sole e alla luce della candela mi avrebbe entusiasmato quella sua dedizione che fosse stato allegramente operoso continuava invece a macinare lavoro in silenzio esangue con moto meccanico è naturalmente parte essenziale del lavoro dello scrivano accertarsi che la copia sia esatta parola per parola se in ufficio vi sono due o più scrivani si assistono a vicenda in questo controllo uno leggendo la copia l'altro tenendo l'originale è una faccenda noiosa spossante soporifera non faccio fatica a pensare che sarebbe intollerabile per un temperamento sanguigno non riesco a immaginare ad esempio il focoso poeta Byron lietamente seduto insieme a Bartleby a controllare un atto legale di diciamo 500 pagine scritte con grafia fitta e raggrinzita di tanto in tanto se c'era fretta avevo l'abitudine di aiutare a confrontare qualche breve documento chiamando allo scopo Tacchino Pinsnez uno dei motivi per mettere Bartleby così a portata di mano dietro il paravento era stato quello di disporre dei suoi servigi in lavoretti del genere era con me credo da tre giorni non c'era stata ancora la necessità di esaminare le sue copie quando dovendo completare in gran plemura una faccenduola di punto in bianco chiamai Bartleby nella fretta e nella naturale aspettativa di una immediata obbedienza me ne stavo seduto con la testa china sull'originale posato sulla mia scrivania la mano destra di lato nervosamente tesa nel porgere la copia in modo che emergendo dal suo cantuccio Bartleby potesse afferrarla e procedere all'esame senza il minimo indugio in questo atteggiamento sedevo dunque quando lo chiamai spiegando rapidamente quello che volevo da lui cioè esaminare insieme a me un breve documento figuratevi la mia sorpresa anzi una mia costernazione quando senza muoversi dal suo angolino con voce singolarmente suave ma ferma Bartleby rispose preferirei di no rimasi per qualche tempo seduto trasecolato in assoluto silenzio chiamando a raccolta le mie facoltà tonite subito mi venne da pensare che gli orecchi mi avessero ingannato oppure che Bartleby avesse completamente frainteso quello che volevo ripetei la richiesta con quanta chiarezza mi era possibile ma con altrettanta chiarezza giunse la risposta di prima preferirei di no preferirei di no ripetei in un eco alzandomi di furia e attraversando la stanza ad un balzo come sarebbe a dire le ha dato di volta il cervello su mi aiuti a controllare questo foglio con l'originale prenda e glielo buttai preferirei di no disse io lo guardai immobile un volto smunto e composto gli occhi grigi opachi spenti non pareva turbato dalla minima agitazione avessi scorto nei suoi modi una certa inquietudine ira impazienza impertinenza in altre parole avessi notato in lui qualcosa di comprensibile di umano senza dubbio l'avrai su due piedi cacciato dal mio ufficio ma così com'era mi sarebbe stato più facile cacciare dall'ufficio il pallido busto in gesso di cicerone rimase a contemplarlo per qualche tempo mentre lui continuava tranquillo a copiare poi tornai alla mia scrivania è una cosa ben strana mi dissi che dovrei fare però il lavoro da sbrigare era urgente così conclusi che per il momento mi conveniva non pensarci più per esaminare bene il caso non appena avessi avuto un po' di tempo libero chiamai Pinsnez che si trovava nella stanza accanto e con lui collazionai rapidamente il documento pochi giorni dopo Bartleby terminò quattro lunghe copie di una settimana di testimonianze rese in mia presenza all'alta corte di giustizia fu allora necessario esaminarle si trattava di una causa molto importante che esigeva la massima precisione dopo che ebbi disposto tutto chiamai dalla stanza accanto Tacchino Pinsnez e Zenzero con l'intenzione di affidare una copia a ciascuno dei miei quattro impiegati mentre io avrei letto l'originale obbedendo ai miei ordini Tacchino Pinsnez e Zenzero si sedettero in fila ognuno con una copia in mano infine chiamai Bartleby perché anche lui si unisse a questo interessante gruppo Bartleby in fretta non si attende che voi udì il sordo rumore delle gambe della sedia sul pavimento privo di tappeto e ben presto gli apparve sulla soglia del suo eremo che desiderate chiese tranquillo le copie le copie rispose in fretta le dobbiamo collazionare ecco e gli tesi il quarto esemplare preferirei di no disse scomparendo tranquillo dietro il paravento per alcuni istanti rimasi come una statua di sale immobile alla testa dei miei tre impiegati non tardai però a riavermi mi avvicinai al paravento e gli chiesi il motivo di così straordinario comportamento ma perché rifiutate preferirei di no si fosse trattato di chiunque altro avrei avuto uno scatto di tremenda rabbia non sarei più stato a discutere ne avrei ignominiosamente cacciato ordinandogli di non farsi mai più vedere ma in Bartleby c'era qualcosa che non solo riusciva a distrarmi in modo incomprensibile ma che mi toccava mi sconcertava cominciai peraltro a discutere con lui sono le vostre copie che adesso esamineremo in questo modo vi risparmio del lavoro perché in una volta sola le esaminiamo tutte è un uso generale ogni copista deve collaborare alla collazione delle sue copie non è così perché non parlate rispondete via preferisco di no rispose lui con quel suo tono flautato ebbe l'impressione che mentre gli stavo parlando egli esaminasse attentamente ogni frase che pronunziavo e comprendesse chiaramente significato nulla potesse obiettare alle logiche conclusioni ma che al tempo stesso qualche motivo ineluttabile lo costrinzesse a rispondere in quel modo dunque siete deciso a non obbedire alle mie richieste richieste conformi all'uso comune e avvallate dal buon senso mi fece brevemente capire che su quel punto la mia valutazione era corretta sì la sua decisione era irrevocabile non è infrequente che un uomo urtato in modo inconsueto e violentamente irragionevole cominci a dubitare delle proprie convinzioni fondamentali comincia per così dire a congetturare in modo vago che per quanto strano la ragione e il diritto stiano forse dall'altra parte di conseguenza se sono presenti persone neutrali si rivolge a costoro in cerca di un sostegno per la mente che vacilla tacchino di sì che ne pensa non ho ragione con rispetto signore rispose tacchino nel suo tono più blando penso di sì pincnez che cosa ne pensa lei penso che lo butterei fuori a calci il lettore attento e sensibile intuirà che essendo mattina la risposta di tacchino è formulata con espressioni cortesi e pacate ma che pincnez replica con malumore ovvero per ripetere una frase detta in precedenza il cattivo umore di pincnez era in servizio mentre quello di tacchino era in licenza zenzero dissi desideroso di raccogliere il consenso anche più insignificante che cosa ne pensi tu penso signore che sia un po' sfasato rispose zenzero con un sogghigno ha sentito quello che dicono chiesi volgendomi verso il paravento su venga qui e faccia il suo dovere non si degnò di rispondere rimasi a ponderare per un attimo risentito e perplesso ma ancora una volta incalzato dal lavoro decisi di rimandare a un momento di calma la valutazione del dilemma con qualche difficoltà riuscimmo a venirne a capo di quel lavoro di controllo sebbene ogni una o due pagine tacchino con deferenza esprimesse l'opinione che si trattava di procedura assai inconsueta mentre pince nez agitandosi sulla sedia con nervosismo dispeptico digrignava a denti stretti e si bilava di tanto in tanto in properi contro il cocciuto idiota dietro il paravento e da parte sua di pince nez quella era la prima e l'ultima volta che avrebbe fatto il lavoro di un altro senza essere pagato Bartoby nel frattempo se ne stava nel suo eremo dimentico di tutto tranne che del documento davanti a sé trascossero alcuni giorni che videro lo scrivano impiegato in un altro lunghissimo lavoro la stranezza del suo comportamento da un po' di tempo a quella parte mi portò a osservare da vicino i suoi modi notai che non andava mai a pranzo anzi che non andava mai da nessuna parte per quanto ne sapessi non mi risultava che fosse mai uscito dall'ufficio eterna sentinella nel suo angolo osservai che verso le undici del mattino zenzero avanzava verso il pertugio nel paravento di Bartoby quasi fosse stato convocato da un cenno invisibile da dove ero seduto io il ragazzo allora usciva facendo tintinnare qualche moneta e riappariva con una manciata di focaccine che depositava nell'eremo ricevendo due dolcetti per il fastidio vive di focaccine allora pensai non fa mai un vero e proprio pranzo sarà vegetariano ma che non mangia mai verdure mangia soltanto focaccine allo zenzero cominciai allora a rincorrere con il pensiero fantasie sui presumibili effetti che avrebbe potuto produrre sull'organismo umano un nutrimento esclusivamente a base di focaccine allo zenzero si chiamano così perché uno dei principali ingredienti è quello che dà il sapore è lo zenzero ora che cos'è lo zenzero una cosa piccante e speziata Bartleby era piccante e speziato niente affatto lo zenzero quindi non aveva alcun effetto su Bartleby probabilmente egli preferiva che non ne avesse nulla esaspera una persona seria quanto la resistenza passiva se l'individuo cui si resiste non è di temperamento disumano e che gli resiste una persona innocua nella sua passività allora il primo quando è di buon umore ti sforza nella sua immaginazione di capire con la carità quanto si dimostra impossibile da spiegare con la ragione così per lo più consideravo Bartleby e le sue maniere poveraccio pensavo non ha intenzioni malvagie è chiaro che non vuole essere insolente basta guardarlo per capire che le sue eccentricità sono involontarie mi è utile riesco ad andarci d'accordo se lo mando via è probabile che capiti con un principale meno indulgente sarà trattato male rischia addirittura di morire di fame sì ecco che a basso prezzo posso crogiolarmi nell'auto con piacimento mostrarmi amico di Bartleby assecondarlo nella sua ostinazione mi costerà poco o niente mentre io accumulo nell'animo quello che finirà per dimostrarsi un dolce bocconcino per la mia coscienza ma non sempre ero di questo umore la passività di Bartleby a volte mi irritava mi sentivo stranamente pungolato a venire ai ferri corti con lui in un nuovo contrasto a far scattare qualche scintilla di rabbia che rispondesse alla mia ma tanto valeva che cercassi di accendere il fuoco strofinando le nocchie contro un pezzo di sapone Windsor ma un pomeriggio in me prevalse l'impulso malvagio e ne seguì questa breve scena Bartleby dissi quando quei documenti saranno stati copiati tutti li controfirmerò insieme a lei preferirei di no come non vorrà incaponarsi su quel suo ostinato caprizzo nessuna risposta spalancando le porte pieghevoli lì vicino esclamai rivolto a Tacchino e Pinsnez Bartleby per la seconda volta dichiara di non voler esaminare le sue copie che ne pensa Tacchino era di pomeriggio ricordatevene Tacchino se ne stava seduto irradiando luce e calore come una pentola di rame la testa calva fumava le mani turbinavano fra le carte macchiate che ne penso rugì Tacchino ecco che cosa penso vado dietro a quel paravento a fargli due occhi neri così dicendo Tacchino alzatosi in piedi assunse una posizione da pugile stava per slanciarsi a mantenere la promessa quando lo trattenni allarmato per aver incautamente suscitato la sua combattività post-prandiale sedete sedete Tacchino disse io e sentiamo che cosa ne pensa Pinsnez che ne pensate Pinsnez forse che non avrei ragione se lo sbattessi fuori su dei piedi Bartleby scusatemi ma siete voi che dovete decidere signore ritengo che il suo modo di comportarsi sia veramente strano e anzi a dire il vero ingiusto nei confronti di Tacchino e di me ma può darsi che sia semplicemente un capriccio passo zero ah esclamai allora voi avete stranamente mutato parere ne parlate con indulgenza ora effetto della birra esclamò Tacchino la gentilezza è sempre effetto della birra Pinsnez e io abbiamo pranzato insieme oggi osservate infatti quanto sia gentile io in questo momento signore e adesso posso andare a pestargli un occhio a Bartleby suppongo ebbene Tacchino per oggi rimandiamo replicai io e vi prego giù quei pugni chiusi la porta e tornai presso Bartleby avvertivo la facile tentazione di sfidare il mio fato ardevo dal desiderio di essere nuovamente disobbedito ricordai che Bartleby non usciva mai dall'ufficio Bartleby disse io in questo momento Zenzero è fuori per piacere fate un salto sino all'ufficio postale erano tre minuti di strada per vedere se c'è posto per me preferirei di no dunque non volete andarci preferisco di no ma costai barcollando alla scrivania e mi lasciai cadere sulla poltrona immerso in profonde meditazioni il mio cieco impulso mi dominò nuovamente vi era qualche cosa in cui sarei stato in grado di farmi ignominiosamente disubbedire da questo sparuto morto di fame che era un mio dipendente quale altra cosa perfettamente ragionevole posso ancora chiedergli che egli sicuramente si rifiuterà di fare Bartleby nessuna risposta Bartleby in un tono più alto nessuna risposta Bartleby urlai con quanto fiato avevo esattamente come uno spettro docile alle leggi delle formule magiche alla terza ingiunzione egli apparve sulla soglia del suo eremo andate nell'altra stanza e dite a Pinsnets di venire qui preferisco di no egli mi rispose con rispettosa lentezza poi tranquillamente sparì benissimo Bartleby dissi io col tono tranquillo sereno e severo della persona che si controlla ma che così dichiara l'incrollabile intenzione di punire ben presto e senza pietà in quel momento avevo quasi voglia di compiere qualcosa del genere ma tutto considerato siccome stava avvicinandosi l'ora del pranzo pensai che era meglio prendere il cappello e andarmene a casa per restarci il resto del giorno dato che ero notevolmente perplesso e turbato devo confessare la verità la conclusione di tutta questa faccenda fu che ben presto passò in giudicato che un giovane pallido scrivano di nome Bartleby aveva una scrivania nel mio ufficio che egli copiava per me dei documenti al prezzo corrente di quattro centesimi il foglio di cento parole ma che ormai era esentato in permanenza dal dovere di collazionare le sue copie quel compito essendo devoluto a Tacchino e a Pinsnez senza dubbio in omaggio alla loro superiore abilità e inoltre che il sullodato Bartleby non doveva mai per nessun motivo essere inviato a fare anche la più semplice e insignificante commissione e che qualora fosse stato inviato a fare qualcosa del genere era convenuto che egli avrebbe preferito di no in altre parole che avrebbe apposto un netto rifiuto col passare delle giornate mi riconciliai con Bartleby la sua perseveranza l'indipendenza da ogni vizio la sua industriosità indefessa tranne quando in piedi dietro il paravento sceglieva di sprofondarsi in fantasticherie l'immobilità l'inalterabile compostezza in ogni circostanza facevano di lui un acquisto prezioso ed ecco una cosa fondamentale era sempre lì il primo al mattino ininterrottamente durante la giornata l'ultimo alla sera avevo nella sua onestà una fiducia assoluta i più preziosi documenti li sentivo perfettamente al sicuro in mano sua talvolta senza dubbio non riuscivo con tutta la buona volontà a non andare in escandecenze contro di lui era infatti oltremodo difficile tenere sempre a mente quelle strane abitudini quei privilegi quegli inauditi esoneri che costituivano il tacito patto in base al quale Bartleby rimaneva nel mio ufficio di tanto in tanto nella fretta di sbrigare un affare urgente senza pensarci chiamavo Bartleby in tono secco e spiccio a mettere il dito su un pezzo di nastro rosso che ero in procinto di annodare per tenere insieme certi documenti superfluo dire naturalmente che da dietro il paravento veniva la sua consueta risposta preferirei di no e allora come avrebbe potuto un essere umano con le comuni debolezze insite nella nostra natura trattenersi dall'imprecare amaramente davanti a tanta caparbietà tanta irragionevolezza comunque a ogni successivo rifiuto che ricevevo le probabilità che ripetessi nell'avvertenza tendevano a diminuire va detto a questo punto che secondo l'abitudine di quasi tutti gli avvocati con lo studio instabili decisamente popolati destinati a uffici molte persone avevano la chiave della mia porta una l'aveva una donna che viveva in soffitta e ogni settimana ripuliva da cima a fondo i miei locali e ogni giorno scopava e spolverava un'altra la teneva a tacchino per comodità la terza la portavo a volte io in tasca la quarta non sapevo chi l'avesse ora una domenica mattina capitandomi di andare alla chiesa della santissima trinità per ascoltare un famoso predicatore e trovandomi in zona piuttosto in anticipo pensai di fare un salto in ufficio per fortuna avevo la chiave con me ma nell'infilarla nella toppa mi stupì di non riuscirci perché qualcosa vi si opponeva dall'interno alquanto sorpreso chiamai ad alta voce quando con mia costernazione una chiave girò all'interno e nella fessura della porta socchiusa mi trovai di fronte Bartby che con il viso smunto in maniche di camicia e in tenuta desabia stranamente lacera mi diceva con tutta calma di rammaricarsene ma in quel momento aveva molto da fare e preferiva non ammettermi aggiunse quindi poche parole per consigliarmi di fare il giro dell'isolato due o tre volte perché in capo a quell'intervallo avrebbe probabilmente concluso le sue faccende ora l'apparizione assolutamente in attesa di Bartleby che occupava il mio studio la domenica mattina con la sua signorile non chalance cadaverica ma nello stesso tempo risoluta e controllata ebbe un tale effetto su di me che di slancio scattaiolai via dalla mia porta e feci come desiderava ma non senza vari fremiti di ribellione impotente contro la mite sfrontatezza di quell'indecifrabile scrivano era infatti soprattutto la sua stupefacente docilità che non soltanto mi disarmava ma per così dire mi rendeva impotente ritengo infatti una sorta di impotenza l'atteggiamento di chi tranquillamente permette al suo impiegato di dargli degli ordini e di mandarlo via dai suoi locali senza contare che mi sentivo molto inquieto che cosa poteva fare Bartleby nel mio ufficio in maniche di camicia e per il resto impresentabile la mattina di una domenica c'era qualcosa che non quadrava no era fuori questione neppure per un momento si poteva pensare che Bartleby fosse una persona immorale ma che cosa ci faceva lì copiare no neppure questo quali che fossero le sue eccentricità Bartleby era una persona eminentemente decorosa sarebbe stato l'ultimo uomo a sedersi sulla scrivania in uno stato prossimo alla nudità inoltre era domenica e qualcosa in Bartleby vietava di supporre che potesse trasgredire con un'occupazione secolare la dignità della giornata il mio animo tuttavia non era tranquillo e in preda ad una irrequieta curiosità ritornai infine davanti alla porta senza difficoltà infilai la chiave ed entrai Bartleby non si vedeva guardai intorno con ansia sbirciai dietro il suo paravento ma era chiaro che se n'era andato esaminando con attenzione il luogo conclusi che chissà da quanto tempo Bartleby doveva mangiare vestirsi dormire nel mio ufficio il tutto senza un piatto senza un letto senza uno specchio il sedile imbottito di un vecchio divano traballante in un angolo mostrava la lieve impronta di una forma sparuta che gli si era colicata arrotolata sotto la sua scrivania trovai una coperta sotto la grata vuota del camino una scatola di lucido e una spazzola su una sedia una bacinella di latte con del sapone e un asciugamano cencioso in un giornale alcune briciole di focaccine e un pezzetto di formaggio sì pensai è evidente che Bartleby si è installato qui una sistemazione da scapolo tutto per conto suo immediatamente mi sentii pervadere dal pensiero che squalli da solitudine che isolamento ci sono qui sotto i miei occhi la sua povertà è grande ma la sua solitudine che cosa orribile pensaci alla domenica Wall Street è deserta come Petra la notte alla fine di ogni giornata è il vuoto questo edificio che nei giorni feriali brulica di operosità e di vita di notte rimanda l'eco del nulla e durante tutta la domenica è abbandonato e Bartleby ha scelto questo luogo come propria casa unico spettatore di una solitudine che ho visto gremita una specie di novello innocente Mario che medita tra le rovine di cartagine per la prima volta in vita mia fui sopraffatto da un senso di ineluttabile struggente malinconia prima di allora non avevo mai sperimentato altro che un triste languore non sgradevole il vincolo della comune umanità mi tracinava irresistibilmente verso un cupo sconforto una malinconia fraterna sì io e Bartleby eravamo entrambi figli di Adamo ricordai le vivide sete e i volti raggianti che avevo visto quel giorno persone agghindate a festa che simili a cigni veleggiavano lungo quel Mississippi che è Broadway e confrontandoli con il pallido copista mi dissi ah la felicità corteggia la luce ecco perché crediamo che il mondo sia lieto ma l'infelicità si nasconde e si isola ecco perché crediamo che non ci sia infelicità queste tristi fantasticherie senz'altro chimere di un cervello malato e sciocco condussero ad altri pensieri più circostanziati sull'eccentricità di Bartleby aleggiava intorno a me il presentimento di qualche strana scoperta mi parve di vedere la pallida forma dello scrivano avvolta in un sudario gelido giacere fra gente sconosciuta incurante all'improvviso fui attratto dalla scrivania chiusa di Bartleby con la chiave in bella mostra nella toppa non voglio fare nulla di male non intendo soddisfare una crudele curiosità pensavo la scrivania inoltre è di mia proprietà e anche quello che contiene così prenderò il coraggio di guardare dentro tutto era disposto in ordine metodico i fogli in pile regolari gli scomparti erano profondi e spostando i fascicoli delle pratiche tastai fino in fondo dopo un poco toccai qualcosa e la trassi fuori era un vecchio fazzoletto di cotone pesante e annodato aprendolo vidi che era il suo salvadanaio mi sovvenne allora le sommessi misteri che avevo notato in quell'uomo rammentai di non averlo mai sentito parlare se non per rispondere di non averlo mai visto leggere no neppure un giornale sebbene di tanto in tanto avesse abbastanza tempo per sé ricordai che per lunghi intervalli se ne stava in piedi accanto alla sua pallida finestra dietro il paravento a guardare fuori il muro cieco di mattoni ero sicuro che non andasse mai a una mensa o a una trattoria mentre il suo volto esangue indicava chiaramente che non beveva mai birra come faceva Tacchino e neppure tè o perfino caffè come gli altri esseri umani che non andava mai in alcun posto particolare di mia conoscenza che non usciva mai a fare una passeggiata a meno che non ci fosse andato in quel momento che aveva sempre evitato di dirmi chi fosse da dove venisse se avesse parenti al mondo e seppure così scarno ed emaciato non si lamentava mai di star male e soprattutto lamentavo una certa aria inconsapevole di pallido come chiamarlo pallido sussiego anzi un alone di austero riserbo che mi aveva intimorito fino a ridurmi a quella docile accettazione delle sue eccentricità quando avevo ormai paura di chiedergli di rendermi il più insignificante servizio sebbene potessi capire dalla protratta immobilità che dietro il paravento se ne stava probabilmente in piedi perso in una di quelle sue fantasticherie trassognate davanti al muro cieco rimucinando tutte queste cose e collegandole alla recente scoperta che del mio ufficio Bartleby aveva fatto il suo alloggio permanente e la sua casa non dimentico della sua morbosa suscettibilità rimuginando tutto questo presa a insinuarsi in me un sentimento di prudenza le mie prime emozioni erano state di paura malinconica e di sincera autentica pietà ma mano a mano che la solitudine e l'isolamento di Bartleby crescevano nella mia immaginazione quella stessa malinconia trascolorava in paura quella pietà in repulsione è così vero e anche così terribile che fino a un certo punto il pensiero o la vista dell'infelicità impegnano i nostri migliori sentimenti ma in certi casi speciali oltre a un certo punto non succede più sbagliano quanti asseriscono che invariabilmente ciò deriva dall'innato egoismo del cuore umano discende piuttosto da una certa impotenza a porre rimedio a un male estremo e organico per un essere sensibile la pietà non dirado è sofferenza e quando alla fine si intuisce che tale pietà non si traduce in un efficace soccorso il senso comune impone all'animo di sbarazzarsene quanto vidi quella mattina mi convinse che lo scrivano era vittima di un disordine innato e incurabile avrai forse potuto soccorrere il corpo ma non era il corpo a dolergli era la sua anima che soffriva e non potevo raggiungere la sua anima lasciai cadere il proposito di andare alla chiesa della Santissima Trinità quel mattino mi sentivo in qualche modo indegno dopo le cose che avevo visto mi camminai verso casa pensando a cosa avrei fatto con Bartleby alla fine mi risolsi su quanto segue il mattino dopo avrei rivolto alcune pacate domande sul suo passato eccetera e se avesse rifiutato di rispondere in modo aperto e senza riserve presumevo che avrebbe preferito di no e avrei allora dato una bancolota da 20 dollari oltre a quanto già eventualmente gli dovevo dicendogli che i suoi servizi non erano più richiesti ma che se in qualunque altro modo avessi potuto aiutarlo sarei stato felice di adoperarmi in tal senso soprattutto se avesse desiderato ritornare là dove era nato non importa dove fosse avrei volentieri contribuito alle spese inoltre se una volta arrivato a casa in un momento qualsiasi si fosse trovato bisognoso di aiuto una sua lettera avrebbe certamente avuto risposta giunse il mattino successivo Bartleby dissi rivolgendomi gentilmente a lui dietro il paravento nessuna risposta Bartleby disse in tono ancora più gentile venga qui non le chiederò di fare nulla che lei preferisca non fare desiderò soltanto parlarle a queste parole silenziosamente scivola fuori vuole dirmi Bartleby dove è nato preferirei di no vuole raccontarmi niente di sé preferirei di no quale ragionevole obiezione ha per non parlarmi ho nei suoi confronti sentimenti amichevoli non mi guardava mentre parlavo ma teneva gli occhi fissi sul busto di cicerone dietro alla mia sedia circa sei pollici sopra la mia testa che cosa mi risponde Bartleby proseguì dopo aver aspettato una sua risposta per un bel po' di tempo mentre il suo volto rimaneva immobile salvo un tremore quasi impercettibile delle labbra pallide e sottili per il momento preferisco non rispondere disse e si ritirò nel suo eremo fu la mia debolezza lo confesso ma in quel momento i suoi modi mi irritarono non soltanto mi sembrava che nascondessero un certo pacato disprezzo ma la sua caparbietà mi pareva ingratitudine considerando gli innegabili benefici e l'indulgenza che aveva avuto da me ancora una volta me ne rimasi lì seduto a rimuginare su quello che avrei dovuto fare mortificato come ero per il suo comportamento e altrettanto risaluto a licenziarlo quando ero arrivato in ufficio avvertivo un timore superstizioso che mi agitava in fondo al cuore vietandomi di mettere in atto quel proposito dandomi del mascalzone se avessi osato proferire una sola parola amara contro di lui il più derelitto degli uomini da ultimo avvicinando con piglio confidenziale la mia sedia alla sua dietro il paravento mi sedetti dicendo Bartleby non importa se non mi racconta la sua storia ma mi consenta di supplicarla da amico di adeguarsi per quanto possibile alle abitudini dell'ufficio mi prometta che domani o il giorno appresso aiuterà a controllare i documenti in breve mi prometta che fra un giorno o due comincerà a essere un po' ragionevole dica di sì Bartleby per il momento preferirei non essere un po' ragionevole fu la risposta suavemente cadaverica proprio in quel momento si aprirono le porte pieghevoli e si avvicinò Pinsnez aveva l'aria sofferente di chi ha passato una notte particolarmente brutta dovuta ad una digestione peggiore del solito colse le ultime parole di Bartleby preferirebbe di no eh ringhiò Pinsnez lo preferirei io se fossi lei signore rivolto a me lo preferirei io gli darei io le preferenze a quel mulo cocciuto scusi signore cos'è che preferisce non fare adesso Bartleby non batte ciglio signor Pinsnez preferirei che lei si ritirasse per il momento dissi in qualche modo da un po' di tempo avevo preso involontariamente l'abitudine di usare la parola preferire a ogni piesso spinto anche fuori luogo tremavo all'idea che la vicinanza dello scrivano avesse già in modo grave compromesso il mio equilibrio mentale quali altre e peggiori aberrazioni non avrebbe potuto produrre questa apprensione aveva avuto la sua parte nella decisione di prendere drastiche misure mentre Pinsnez si allontanava con aria acida e scontrosa si avvicinò beato e ossequioso Tacchino con rispetto signore disse ieri mi sono messo a pensare al nostro Bartleby secondo me se solo lo preferisse un quarto di buona birra al giorno farebbe molto nel curarlo e metterlo in sesto per aiutare a controllare i documenti così anche lei è rimasto contagiato dalla parola dissi leggermente eccitato con rispetto signore quale parola chiese Tacchino ficcandosi nel ristretto spazio dietro il paravento e così facendo mandandomi a urtare lo scrivano quale parola signore preferirei essere lasciato solo qui disse Bartleby quasi offeso per quell'invasione nel suo spazio privato ecco la parola Tacchino dissi eccola ah preferire oh sì strana parola non la uso mai io ma signore come stavo dicendo se preferisse Tacchino lo interruppe si ritiri per favore certamente signore se lei preferisce così mentre apriva la porta pieghevole per ritirarsi Pinsnez lanciandomi un'occhiata dalla scrivania mi chiese se preferissi che un certo documento venisse copiato su carta azzurra o bianca non sottolineò con accento malizioso la parola preferire era chiaro che gli era sfuggita dalle labbra in modo involontario devo sbarazzarmi senz'altro di questo demente che ha già in certa misura turbato la lingua se non il cervello mio e dei miei impiegati pensai fra me ma ritenni prudente non spiattellargli lì per lì il licenziamento il giorno successivo notai che Bartleby non faceva nulla salvo starsene in piedi alla finestra perso nella fantasticheria ispiratagli dal muro cieco quando gli chiesi perché non scrivesse rispose di aver deciso di non scrivere più come? anche questo adesso? cos'altro? esclamai non vuole più scrivere? no per quale ragione? non capisce da sé la ragione? rispose con indifferenza lo guardai fisso e notai che i suoi occhi apparivano spenti e vitrei mi venne subito da pensare che l'impareggiabile diligenza durante le prime settimane del suo impiego presso di me nel copiare accanto a quella buia finestra gli avesse temporaneamente affaticato la vista ne fui commosso gli espressi il mio rammalico accennai al fatto che naturalmente faceva cosa saggia ad astenersi dallo scrivere per un po' lo incitai a cogliere quell'occasione per fare qualche salutare attività all'aria aperta cosa tuttavia che egli non fece alcuni giorni dopo durante un'assenza degli altri impiegati mi saltò in mente avendo grande paura di spedire certe lettere per posta che Bartleby non avendo nulla al mondo da fare sarebbe stato di sicuro meno inflessibile del solito e avrebbe portato le lettere all'ufficio postale ma rifiutò con aria irremovibile e assente così con notevole disagio ci andai di persona passarono altri giorni se gli occhi di Bartleby migliorassero o meno non saprei di primo acchito avrei detto di sì ma quando gli chiesi conferma non mi accordò risposta in ogni caso non copiava niente alla fine su mia sollecitazione mi rispose di aver smesso di copiare per sempre cosa? esclamai supponiamo che i suoi occhi ugualiscano perfettamente meglio di prima non vorrà più copiare? ho smesso di copiare rispose e scivolo via rimase come prima ad essere un infisso nel mio studio anzi se possibile divenne più che mai un infisso che cosa fare? non voleva fare nulla nell'ufficio perché allora doveva stare lì? per dirla schietta era diventata una pietra al collo un'inutile collana greve da sopportare per giunta eppure mi faceva pena non esagero dicendo che mi metteva a disagio se appena avesse fatto il nome di un solo parente o amico mi avrei scritto immediatamente sollecitandolo a portare quel povero disgraziato in qualche posto adatto ma sembrava solo assolutamente solo nell'intero universo un relitto in mezzo all'Atlantico alla lunga le tiranniche esigenze del lavoro travolsero ogni altra considerazione con tutto il tatto possibile disse a Bartleby che in capo a sei giorni doveva assolutamente lasciare l'ufficio lo consigliai di edoperarsi nel frattempo per trovarsi un altro alloggio mi offrì di aiutarlo in questa fatica purché facesse il primo passo per il trasloco e quando alla fine mi lascerà Bartleby soggiunse provvederò a che lei non se ne vada del tutto sprovvisto sei giorni da adesso se ne ricordi alla fine di quel periodo guardai dietro il paravento ed ecco Bartleby sempre lì mi abbottonai la giacca mi feci forza avanzai lentamente verso di lui gli toccai la spalla e dissi è venuto il momento deve lasciare questo posto mi spiace per lei ecco il denaro ma deve andarsene preferirei di no rispose sempre con le spalle voltate lei deve andarsene rimase in silenzio ora io avevo illimitata fiducia nell'onestà di quell'uomo spesso mi aveva consegnato monetine da sei centesimi e qualche scellino che avevo sbadatamente lasciato cadere perché sono inclina ad essere distratto in queste cosucce Bartleby dissi le devo dodici dollari per il lavoro svolto eccone trentadue i venti in più sono per lei vuole prenderli e gli tesi le banconote non si mosse rilascio qui allora dissi mettendoli sul tavolo sotto un fermacarte prendendo quindi cappello e bastone e avviandomi alla porta mi fossi tranquillamente aggiungendo quando avrà portato via le sue cose dall'ufficio Bartleby chiuda la porta ormai se ne sono andati tutti per oggi tranne lei e per favore infili la chiave sotto lo zerbino dove domattina io possa trovarla non la vedrò più addio dunque se in futuro nel suo nuovo alloggio potrò esserle utile non manchi di avvertirmi per lettera addio Bartleby e buona fortuna ma egli non rispose neppure una parola simile all'ultima colonna di un tempio in rovina rimase in piedi muto e solitario nel mezzo della stanza altrimenti deserta incamminatomi verso casa meditabondo la vanità ebbe la meglio sulla pietà non potevo non essere compiaciuto per come avevo magistralmente condotto le cose nel liberarmi di Bartleby magistralmente così mi esprimo e tale deve apparire a ogni pensatore spassionato la bellezza della mia tattica sembrava risiedere nella sua perfetta pacata sobrietà nessuna arroganza volgare nessuna spacconata di alcun tipo nessun soppruso collerico nessun andirivieni concitato per lo studio sbottando in ordini rabbiosi perché Bartleby facesse fagotto con le sue cianfusaglie da straccione niente del genere senza alzar la voce per ordinargli di andarsene come forse avrebbe fatto un uomo meno perspicace partivo dal presupposto che andarsene doveva partivo dal presupposto che andarsene doveva e su quel presupposto si fondava tutto quello che avevo da dire più riflettevo su come erano andate le cose più ne ero incantato e mattina dopo tuttavia al risveglio avevo i miei dubbi in qualche modo il sonno aveva smaltito i fumi della vanità uno dei momenti in cui si è più lucidi e saggi è subito dopo il risveglio al mattino mi sembrava ancora di essermi comportato con sagacia ma soltanto in teoria come sarebbe stato in pratica ecco l'intoppo era davvero un pensiero meraviglioso supporre che Bartleby se ne fosse andato ma dopo tutto era esclusivamente una mia supposizione non certo di Bartleby in grosso nodo non era che fossi io a supporre bensì che fosse lui a preferire era un uomo di preferenze più che di supposizioni dopo colazione mi incamminai verso lo studio dibattendo le probabilità a favore e quelle contro un attimo pensavo che la mia tattica si sarebbe rivelata un penoso fallimento e che avrei trovato Bartleby piantato nel mio ufficio come al solito un attimo dopo mi pareva certo che avrei trovato vuota la sua sedia così continuava a cambiare opinione all'angolo di Broadway e Kennell Street vidi un gruppo di gente piuttosto agitata impegnata in un'accesa discussione scommetto che non lo fa disse una voce mentre passavo che non se ne va d'accordo dissi fuori i soldi stavo istintivamente mettendo mano alla tasca per tirar fuori la mia posta quando mi ricordai che quello era giorno di elezioni le parole che avevo udito non avevano alcun rapporto con Bartleby ma con il successo o l'insuccesso di un tale candidato alla carica di sindaco assorto come ero nei miei pensieri avevo immaginato per così dire che tutta Broadway condividesse il mio turbamento e dibattesse il mio problema mi superai grato che il frastuono della strada avesse nascosto la mia momentanea distrazione come avevo deciso giunsi davanti alla porta dell'ufficio prima del solito rimasi lì ad ascoltare per un attimo tutto era tranquillo doveva essersene andato provai la maniglia la porta era chiusa a chiave sì la mia tattica aveva compiuto il miracolo doveva sul serio essersi dileguato eppure un pizzico di melanconia si mescolava a questo ero quasi dispiaciuto per quel brillante risultato stavo frugando sotto lo zerbino alla ricerca della chiave che senz'altro Bartleby aveva lasciato lì per me quando per caso con il ginocchio urtai un pannello producendo un suono come di chibussa e da dentro in risposta mi giunse una voce un momento sono occupato era Bartleby ne fui folgorato per un attimo rimasi in piedi come quel tizio che pipa in bocca era stato ucciso tanto tempo prima in Virginia da un fulmine in un terzo pomeriggio d'estate alla sua finestra aperta e tiepida era stato ucciso e lì era rimasto affacciato nel languido pomeriggio finché qualcuno toccandolo non lo aveva fatto cadere non se n'è andato murmurai alla fine ma ancora una volta obbedendo a quello strano ascendente che aveva su di me l'imperscrutabile scrivano dal quale ascendente pur con tanta insofferenza non riuscivo a sottrarmi del tutto se si piano le scale usci in strada e mentre giravo intorno all'isolato soppesai il da farsi in quell'inaudito dilemma buttarlo fuori con la forza non potevo trascinarlo via a suon di insulti non si addiceva chiamare la polizia era un'idea che non mi andava eppure lasciargli assaporare il suo cadaverico trionfo su di me neanche questo potevo ammettere che fare oppure se non si poteva fare niente mi restava qualche altra supposizione in questa faccenda sì come prima in prospettiva ero partito dal presupposto che Bartleby se ne sarebbe andato così ora in retrospettiva potevo partire dal presupposto che andato se ne fosse sviluppando coerentemente tale supposizione sarei potuto entrare in ufficio di gran fretta e fingendo di non vedere Bartleby andargli addosso come se fosse stato d'aria questa tattica avrebbe avuto in grado straordinario tutto l'aspetto di un'espulsione non era possibile che Bartleby riuscisse a sopportare una tale applicazione della dottrina dei presupposti ma ripensandoci il successo del piano pareva piuttosto dubbio decisi di discutere ancora la faccenda con lui Bartleby disse entrando nell'ufficio con un'espressione pacatamente severa sono profondamente dispiaciuto sono addolorato Bartleby avevo un'opinione migliore di lei avevo ritenuta un gentiluomo con il quale sarebbe bastato fare un semplice accenno in un qualsiasi frangente delicato un'allusione insomma ma quanto sembra mi sono ingannato come? aggiunse con un sussulto di sincera sorpresa non ha ancora toccato quel denaro indicandoglielo là dove lo avevo lasciato la sera prima non rispose nulla intende lasciarmi oppure no chiese a questo punto con impeto improvviso avvicinandomi a lui preferirei non lasciarla rispose sottolineando leggermente il non quale diritto al mondo amai di restare qui paga l'affitto mi paga le tasse questa casa le appartiene non rispose nulla è disposto a riprendere a scrivere adesso i suoi occhi sono guariti potrebbe copiarmi un breve documento questa mattina oppure aiutarmi a controllare qualche riga oppure fare un salto all'ufficio postale in una parola fare una cosa qualsiasi che giustifichi il suo rifiuto di lasciare l'ufficio in silenzio si ritrasse nel suo eremo mi trovavo in uno stato tale di risentita irritazione che ritenni prudente trattenermi per il momento dal dire altro io e Bartleby eravamo soli e sovvenne la tragica fine dello sventurato Adams e dell'ancor più sventurato Colt nell'ufficio solitario di quest'ultimo come il povero Colt portato da Adams a un punto di esasperazione estrema abbandonandosi imprudentemente a un furore selvaggio fosse tracinato a commettere il suo fatale gesto senza esserne consapevole un gesto che nessuno avrebbe potuto deplorare più di lui che lo aveva compiuto spesso nel riflettere sul caso mi aveva assalito il pensiero che se l'alterco fosse scoppiato nella pubblica via o in un'abitazione privata non si sarebbe concluso in quel modo era stata la circostanza di trovarsi da solo nell'ufficio deserto al primo piano di uno stabile mai benedetto dall'influsso umanizzante dei rapporti familiari un ufficio dall'assito nudo indubbiamente polveroso e squallido ecco che cosa doveva aver contribuito a esacerbare la rabbia disperata dello sfortunato colt ma quando in me sorse questo rancore quando in me si svegliò il vecchio Adamo per tentarmi contro Bartleby lo abbrancai e lo respinsi come limitandomi a ricordare il comando divino un nuovo comandamento io lo ho a tutti voi che vi amiate l'un l'altro sì questo a salvarmi a prescindere da nobili considerazioni la carità spesso opera alla stregua di un principio saggio e prudente una grande salvaguardia per chi la possiede gli uomini hanno ucciso per gelosia per rabbia per odio per egoismo per orgoglio spirituale per mero interesse personale ma nessun uomo per quanto ne sappia ha mai ucciso per la dolce carità per mero interesse personale allora in mancanza di un motivo migliore tutti specie le persone colleriche dovrebbero praticare la carità e la filantropia in ogni modo nell'attuale situazione cercai con tutte le forze di soffocare la mia esasperazione nei confronti dello scrivano interpretando benevolmente la sua condotta poveretto poveretto pensai non ha cattive intenzioni senza contare che ne ha conosciuti di momenti difficili e bisogna aver pazienza con lui mi sforzai anche di trovare subito qualcosa da fare e nello stesso tempo di dare sollievo al mio sconforto cercai di cullarmi nelle fantasie che nel corso della mattinata in un momento che gli fosse andato a genio Bartleby di sua spontanea volontà sarebbe emerso dal suo cantuccio per imboccare con decisione la direzione della porta niente da fare venne la mezza Tacchino cominciò a irradiare luce dal volto a rovesciare il calamaio a farsi insofferente Pinsness si acquietò in una cortese compostezza Zenzero prese a rosicchiare la mela del pranzo Bartleby in piedi davanti alla finestra era immerso in una delle sue più profonde fantasticherie sul muro cieco lo si crederà dovrei ammetterlo quel pomeriggio lasciai l'ufficio senza rivolgergli la parola trascorsero alcuni giorni durante i quali negli intervalli liberi reggiucchiavo il trattato di Edwards sulla volontà e quello di Priestley sulla necessità date le circostanze quei libri mi ispirarono sentimenti salutari a poco a poco mi abbandonai alla convinzione che i miei affanni riguardanti lo scrivano fossero stati predestinati dall'eternità e che Bartleby mi fosse stato assegnato per qualche misterioso scopo da una onnisciente provvidenza imperscrutabile per un semplice mortale come me sì Bartleby statene lì dietro il tuo paravento pensavo non ti perseguiterò più sei innocuo e silenzioso come una di queste vecchie sedie in breve non mi sento mai così solo come quando so che sei lì perlomeno lo vedo lo percepisco intuisco lo scopo predestinato della mia vita mi basta altri forse avranno ruoli più nobili da interpretare ma la mia missione nel mondo Bartleby è di darti una stanza d'ufficio per tutto il tempo che ti andrà di rimanervi sono convinto che lo hai persistito in questa saggia e beata disposizione se non fosse stato per le osservazioni gratuite e impietose lanciatemi dai colleghi che venivano nel mio studio spesso accade che la contiguità con animi poco liberali finisca con illogorare i migliori propositi degli animi generosi riflettendoci tuttavia non era strano a ben pensarci che quanti entravano nel mio ufficio colpiti dall'aspetto peculiare dell'inesplicabile Bartleby fossero tentati di buttare lì qualche commento perfido su di lui a volte veniva nello studio questo o quel procuratore che aveva affari con me e non trovando nessuno tranne lo scrivano si adoperava per ottenere da lui qualche indicazione su dove io fossi ma Bartleby indifferente a quelle vane chiacchiere se ne rimaneva immobile in piedi in mezzo alla stanza e il procuratore dopo averlo contemplato in quella posizione per qualche tempo se ne andava senza aver saputo nulla oppure quando si svolgeva un arbitrato con un ufficio gremito di avvocati e testimoni mentre il lavoro urgeva qualche legale presente immerso nelle sue occupazioni vedendo Bartleby che non faceva assolutamente nulla gli chiedeva di andare di corsa nel suo ufficio del legale a prendergli qualche documento a che Bartleby tranquillamente rifiutava restandosene con le mani in mano come prima il legale a questo punto sgranando gli occhi si volgeva verso di me che cosa potevo dire alla fine mi lasci conto che nella cerchia delle mie conoscenze professionali circolavano sussurri di sorpresa per la strana creatura che tenevo nello studio questo mi preoccupò molto e mentre si faceva strada il pensiero che potesse magari essere un uomo longevo e continuare a occupare i miei locali a rifiutare la mia autorità a mettere in imbarazzo i miei visitatori a screditare la mia reputazione professionale a gettare un'ombra a sinistra sull'ufficio tenendo l'anima stretta coi denti fino all'ultimo centesimo dei suoi risparmi non c'era dubbio infatti che spendesse al massimo cinque centesimi al giorno e finisse con insopravvivermi avanzando pretese sulla proprietà degli uffici per uso capione con la sua occupazione perpetua mentre tutti questi cupi presagi mi si affollavano in mente sempre più pressanti e mentre i miei amici irriducibili di continuo mi imponevano le loro osservazioni sul fantasma dell'ufficio un grande mutamento si operò in me decisi di raccogliere tutte le mie energie e liberarmi una volta per tutte di quell'intollerabile incubo prima di elaborare un piano complicato adatto allo scopo mi limitai a suggerire a Bartleby l'opportunità di una partenza definitiva in tono calmo e greve mi sottoposi l'idea invitandolo a valutarla con matura ponderazione ma dopo essere stato tre giorni a meditarvi mi comunicò che rimaneva invariata la sua originaria decisione in breve preferiva ancora alloggiare da me che cosa farò mi disse abbottonandomi la giacca fino all'ultimo bottone che cosa farò che cosa dovrai fare che cosa in coscienza sarei tenuto a fare di quest'uomo anzi di questo fantasma sbarazzarmene dovevo andarsene dovrà ma come non lo butterai fuori quel pover uomo pallido passivo non butterai fuori una creatura tanto enerme non ti disonorerai commettendo una tale crudeltà no non lo farò non posso farlo lo lascio piuttosto vivere e morire qui per murare poi le sue spoglie nella parete che cosa farai allora puoi blandirlo ma non lo smuoverai i soldi che gli dai per convincerlo li lascia sotto il fermacarte del suo tavolo è evidente insomma che preferisce aggrapparsi a te allora è necessario prendere misure drastiche straordinarie cosa non vorrai farlo ammanettare da un poliziotto affidando a un carcere comune la sua esangue innocenza e poi per quali motivi potresti ottenere una cosa simile è un vagabondo come un vagabondo uno senza dimora fissa lui che si rifiuta di muoversi è proprio perché non è un vagabondo che cerchi di farlo passare per vagabondo troppo assurdo nessun mezzo di sostentamento evidente ecco che lo impugno no sbagliato di nuovo ha di che vivere senza dubbio l'essere vivi è l'unica prova inconfutabile che si ha di che vivere niente da fare allora poiché non sarà lui a lasciare me sarò io a lasciare lui cambierò ufficio andrò altrove lo avvertirò nei dovuti modi che se mai lo troverò nei nuovi locali procederò contro di lui per violazione di domicilio il giorno successivo agendo di conseguenza così mi rivolsi a lui trovo che questo ufficio sia troppo lontano dal municipio senza contare che l'aria non è buona insomma ho intenzione di traslocare la prossima settimana e non avrò più bisogno dei suoi servigi glielo dico oggi perché posso trovarsi un altro posto non rispose nulla e null'altro fu detto nel giorno fissato noleggiati carri e uomini andai in ufficio e avendo soltanto pochi mobili in poche ore fu portata via ogni cosa per tutto il tempo lo scrivano se ne rimase in piedi dietro il paravento che ordinai di portare via per ultimo fu tolto e piegato come un enorme foglio lo lasciò inquilino immobile di una stanza spoglia mi fermai sulla soglia guardandolo per un momento mentre dentro di me qualcosa mi rimordeva ritornai indietro con la mano in tasca e il cuore in gola addio Bartleby me ne vado addio e Dio ti protegga in qualche modo prenda facendogli scivolare qualcosa in mano ma finì a terra e allora strano a dirsi dovetti fare uno sforzo per strapparmi da lui e sì che avevo tanto desiderato sbarazzarmene nel mio nuovo studio per un giorno o due tenni la porta chiusa a chiave trassalendo ad ogni rumor di passi nel corridoio ritornando in ufficio dopo un'assenza anche brevissima indugiavo sulla soglia per un attimo tendendo l'orecchio con attenzione prima di infilare la chiave ma erano paure superflue Bartleby non venne mai da me pensavo che tutto andasse per il meglio quando venne a trovarmi uno sconosciuto dall'aria sconvolta chiedendomi se fossi io la persona che ultimamente aveva occupato i locali a quel numero di Wall Street in preda a cupi presentimenti risposi di sì allora signore disse lo sconosciuto che risultò essere un avvocato lei è responsabile dell'uomo che si è lasciato dietro rifiuta di copiare rifiuta di fare qualsiasi cosa dice che preferisce di no rifiuta di lasciare i locali ne sono desolato signore risposi fingendomi calmo sebbene tremassi dentro di me ma l'uomo cui lei allude non è niente per me non è un mio parente non è neppure un apprendista per il quale lei potrebbe ritenermi responsabile in nome del cielo chi è non sono in grado di dirglielo non so nulla di lui in passato lo assunsi come copista ma da un po' di tempo non fa niente per me lo sistemerò io allora buongiorno signore trascorsero parecchi giorni e non ne seppi più nulla se anche a volte mi sentivo spinto da un impulso caritatevole ad andare a trovare il povero Bartleby tuttavia mi trattenevo una certa ripugnanza per chissà che cosa ormai è sistemato pensai alla fine quando per tutta la successiva settimana non ebbi altre notizie di lui ma arrivando nello studio il giorno dopo trovai in attesa davanti alla mia porta varie persone agitatissime eccolo arriva gridò il portavoce che riconobbi come l'avvocato venuto da me in precedenza deve portarselo via immediatamente signore gridò avvicinandosi a me un signore distinto che sapevo essere il proprietario dello stabile a quel numero di Wall Street questi signori e inquilini non lo tollerano più il signor B indicando l'avvocato l'ha messo fuori del suo ufficio e lui adesso si ostina a funestare l'intera casa sedendosi sulla ringhiera delle scale di giorno e dormendo nell'ingresso di notte ne sono tutti preoccupati i clienti se ne vanno serpeggia la paura di una sommossa bisogna intervenire e senza perdere tempo atterrito da quel torrente di parole indietreggiai e sarei stato contento di chiudermi a chiave nel mio nuovo studio invano continuai ad insistere che Bartleby non era niente per me non più di chiunque altro invano risultavo essere io l'ultima persona che aveva avuto a che fare con lui e dovevo rendere conto della terribile situazione timoroso dunque di finire sui giornali come minacciò oscuramente uno dei presenti considerai la faccenda e dopo un po' dissi che se l'avvocato mi avesse concesso di parlare allo scrivano in privato nel suo ufficio dell'avvocato e in quel pomeriggio mi sarei adoperato al massimo per liberarlo del fastidio all'origine delle sue recriminazioni salendo le scale verso la mia vecchia tana ecco Bartleby che in silenzio se ne stava seduto sulla ringhiera del pianerottolo che cosa fai qui Bartleby chiesi sto seduto sulla ringhiera rispose mitemente mi feci cenno di entrare nell'ufficio dell'avvocato che subito se ne andò Bartleby dissi ti rende conto che mi fa tribolare ostinandosi a occupare l'ingresso dopo essere stato licenziato dall'ufficio nessuna risposta una delle due o lei fa qualcosa oppure qualcosa va fatto a lei in che lavoro le piacerebbe impegnarsi vorrebbe riprendere a copiare per qualcuno no preferirei non fare cambiamenti vorrebbe fare il contabile in una drogheria si sta troppo al chiuso no non mi va di fare il contabile ma non faccio il difficile troppo al chiuso esclamai ma se lei se ne sta sempre rinchiuso preferirei non fare il contabile aggiunse come a sistemare subito quella piccola questione ne andrebbe di lavorare in un bar in quel mestiere non si sforza gli occhi non mi piacerebbe affatto anche se come ho già detto non faccio il difficile l'insolita loquacità mi diede un'ispirazione ritornai alla carica mi piacerebbe allora viaggiare per tutto il paese a riscuotere crediti per i commercianti e farebbe bene alla salute no preferirai fare qualcos'altro che ne direbbe di andare in Europa a seguito di qualche giovane gentiluomo per intrattenerlo con la sua conversazione ne andrebbe per niente non mi pare che ci sia niente di stabile mi piace stare fermo in un posto ma non faccio il difficile e fermo in un posto allora se ne starà esclamai perdendo la pazienza e sbottando di rabbia per la prima volta nella storia dei miei esasperanti rapporti con lo scrivano se lei non se ne vada questo stabile prima di sera sarò costretto anzi sono costretto ad andarmene io stesso conclusi in modo piuttosto incongru non sapendo con quale minazza spaventarlo per scuoterlo da quella sua immobilità inducendolo ad obbedire disperando nell'esito di altri sforzi stavo per lasciarlo precipitosamente quando mi venne un ultimo pensiero un'idea che non avevo mai del tutto accantonato in precedenza Bartleby dissi con il tono più gentile che in tutta quella concitazione mi riuscì di assumere vuole venire con me non nel mio ufficio ma nel mio appartamento e restare lì finché non avremmo trovato con comodo una sistemazione conveniente su andiamoci adesso subito no per il momento preferirei non cambiare nulla non replicai ma scansando tutti con una fuga subitanea e rapida mi precipitai fuori da quello stabile risalii di corsa Wall Street verso Broadway e saltando sul primo omnibus mi trovai presto al sicuro dagli inseguimenti non appena fui di nuovo calmo capii distintamente di aver fatto tutto il possibile sia per venire incontro alle esigenze del padrone di casa e degli inquilini sia per appagare il mio desiderio e obbligo morale di aiutare Bartleby e proteggerlo da una dura persecuzione mi sforzai allora di scrollarmi di dosso ogni ansia e di mettermi tranquillo la coscienza provava quel tentativo sebbene non proprio come avrei voluto ero così timoroso di essere stanato dall'esasperato proprietario e dagli adirati inquilini che affidando l'ufficio a Pinsnez per qualche giorno mi diressi in carrozza verso la parte alta della città attraversando i soborghi arrivai a Jersey City e Obokane al di là del fiume visitai in gran fretta Marathonville e Astoria insomma vissi quasi tutto il tempo in carrozza quando varcai di nuovo la soglia dello studio ecco sulla mia scrivania un messaggio del padrone di casa lo aprì con mani tremanti mi informava che lo scrivente aveva fatto intervenire la polizia e condurre Bartleby alle tombe per vagabondaggio siccome io su di lui ne sapevo più di ogni altro mi pregava di recarmi in quel luogo e fare un'adeguata deposizione dei fatti questi ragguagli ebbero su di me reazioni contrastanti da prima ne fui sdegnato ma alla fine giunsi quasi ad approvare la decisione il temperamento sbrigativo ed energico del padron di casa lo aveva indotto ad adottare una procedura che non credo mi sarei mai deciso a seguire eppure estremo rimedio in quelle circostanze tanto insolite sembrava l'unica soluzione come appresi più tardi il povero scrivano avvertito che doveva essere tradotto alle tombe non aveva posto la minima resistenza la visiera adeguato con la sua pallida imperturbabile mansuetudine alcuni presenti per compassione e curiosità si erano uniti al gruppo e capeggiato da un poliziotto a brazzetto di Bartleby il silenzioso corteo aveva sfilato attraverso le concitate strade in mezzo al frastuono e al caldo e all'allegria di mezzogiorno lo stesso giorno in cui ricevetti quel messaggio mi recai alle tombe ovvero per esprimermi con precisione al carcere giudiziario cercato il funzionario competente dichiarai lo scopo della mia visita e venne a sapere che di fatto l'individuo descritto era lì trattenuto assicurai allora il funzionario che Bartleby era un uomo di assoluta probità da commiserare profondamente seppure centrico al di là di ogni dire esposi tutto quello che sapevo e conclusi suggerendo di tenerlo in reclusione con tutta l'indulgenza possibile finché non si fosse trovata una soluzione meno aspra sebbene in vero non sapessi quale potesse essere se poi non si fosse deciso niente lo avrebbe accolto l'ospizio dei poveri chiasi quindi di parlargli non essendo imputato di nessun grave reato e avendo sempre un'aria docile e innocua gli avevano concesso di aggirarsi liberamente per la prigione e soprattutto nei cortili erbosi interni fu quindi lì che lo trovai da solo in piedi nell'angolo più tranquillo con il volto verso un alto muro mentre tutto intorno attraverso le strette feritoie delle finestre della prigione mi parve di scorgere gli occhi di ladri assassini che sbirciavano barterby la conosco disse senza voltarsi non ho nulla da dirle non sono stato io a portarla qui barterby dissi profondamente addolorato dall'implicito sospetto e per lei questo non dovrebbe essere un posto tanto abbietto non le viene imputata nessuna azione riprovevole per trovarsi qui e guardi non è poi così triste come si potrebbe pensare guardi c'è il cielo c'è l'erba so dove mi trovo rispose ma non vole aggiungere altro e così lo lasciai mentre imboccavo di nuovo il corridoio uno maccione dall'aria sanguigna con un grembiule mi si avvicinò e indicando con il pollice sopra la sua spalla disse è un suo amico sì vuole morire di fame se sì basta dargli la razione che passa il carcere ed è fatta lei chi è chiesi non sapendo come catalogare una persona che in un tal posto parlava in modo così poco ufficiale sono il vivandiere i signori qui che hanno amici mi pagano così io gli porto cose buone da mangiare è vero chiesi volgendomi verso il secondino lo confermò allora dissi facendo scivolare qualche moneta d'argento nelle mani del vivandiere perché così lo chiamavano le chiedo di prestare particolare attenzione al mio amico qui gli faccia avere il miglior pranzo che riesce a trovare e con lui sia più gentile che può che ne dice di presentarmi chiese il vivandiere guardandomi con un'espressione che sembrava significare l'impazienza di mostrarmi le sue buone maniere pensando che potesse giovare allo scrivano accondi scesi e chiedendo al vivandiere come si chiamasse mi avvicinai con lui a Bartleby Bartleby ecco un amico vedrà che le sarà molto utile servitor suo signore servitor suo disse il vivandiere con un profondo inchino dietro il suo grembiule spero che sarà di suo gusto qui signore bel giardino locali freschi spero che rimarrà con noi per un po' cercherò di renderglielo piacevole cosa vuole per pranzo oggi preferisco non pranzare oggi disse Bartleby voltandosi dall'altra parte mi farebbe male non sono abituato a pranzare così dicendo si portò lentamente sul lato opposto del cortile e si mise davanti al muro cieco cosa vuol dire disse il vivandiere rivolgendosi a me con sguardo attonito è un po' tocco vero penso che sia un po' dissennato dissi con tristezza dissennato dissennato dice beh parola mia credevo che questo vostro amico fosse un falsario perché sono sempre pallidi e hanno un'aria distinta i falsari non posso fare a meno dal compatirli è più forte di me signore avete conosciuto morro Edwards soggiunse con tono commosso e si tacque poi passandomi la mano sulla spalla sospirò accurato morto tisico a sing sing così voi non lo conoscevate morro no personalmente non conosco dei falsari ma non posso fermarmi oltre fate quanto potete per questo mio amico non saranno pene perdute le vostre tornerò presto pochi giorni dopo otteni nuovamente il permesso di entrare alle tombe e girai per i corridoi alla ricerca di Bartleby senza riuscire a trovarlo l'ho visto uscire poco fa dalla cella mi disse un secondino forse è andato nel cortile così mi avviai nella direzione indicata state cercando l'uomo che non parla mi chiese un altro secondino che mi passò accanto è steso laggiù addormentato sul prato non saranno venti minuti che l'ho visto sdraiato per terra il cortile era completamente silenzioso i prigionieri comuni non vi avevano accesso le mura che lo circondavano di incredibile spessore lo mettevano al riparo da qualsiasi rumore il carattere egizio di quella architettura mi gravava sul cuore con tutta la sua desolazione ma sotto i piedi cresceva una soffice erbetta prigioniera era il cuore delle eterne piramidi si sarebbe detto dove per qualche misteriosa magia i semi d'erba lasciati cadere dagli uccelli erano germogliati aprendosi una strada attraverso le fenditure stranamente raggomitolato alla base del muro le ginocchia rattratte disteso sul fianco e con la testa poggiata sulle fredde pietre vidi allora il consunto Bartleby nulla in lui muoveva mi fermai ma costai un altro po mi curvai su di lui e vidi che gli occhi opachi erano aperti non fosse stato per quello avrai detto che era immerso in un sonno profondo qualcosa mi spinse a toccarlo tastai la mano e un freddo brivido mi salì per il braccio mi corse dalla testa ai piedi la faccia rotonda del cantiniere spuntò alle mie spalle il suo pranzo è pronto neppure oggi vuole pranzare o riesce a campare d'aria ormai sì d'aria risposi io e gli chiusi gli occhi come dorme vero sì con i re e i consiglieri della terra mormorai a questo punto pare superflua ogni altra aggiunta l'immaginazione la più modesta potrà facilmente fornire lo squallido racconto del seppellimento del povero Bartleby ma prima di congetarmi dal lettore se questo breve racconto l'ha interessato tanto da fargli desiderare di sapere chi fosse Bartleby e quale esistenza avesse condotto fino al giorno in cui venne a contatto con il suo attuale cronista vorrei dirgli che condivido pienamente la sua curiosità ma che non sono in grado di soddisfarla eppure non so se non dovrei riferire una voce che giunse al mio orecchio pochi mesi dopo la morte del povero scrivano quale fondamento avesse non fu in grado di stabilire e pertanto non posso precisare quanto sia vera ma siccome questa vaga voce per triste che sia non mi è parsa priva di suggestione e può darsi che anche ad altri si riveli tale così io la esporrò in poche parole l'informazione era la seguente che Bartleby sarebbe stato un impiegato subalterno nell'ufficio delle lettere smarrite a Washington e che era stato improvvisamente licenziato per un cambiamento di amministrazione quando vi penso non riesco quasi ad esprimere le strane emozioni che si destano in me lettere smarrite lettere morte non vi fanno pensare a uomini morti immaginate l'uomo che per natura o sue sventure si è incline a una squallida disperazione quale altro lavoro potrà confermarlo in una cotal sua inclinazione meglio che il maneggiare ogni giorno quelle lettere smarrite e prepararle per le fiamme perché ogni anno se ne bruciano accarrate talvolta dalle pieghe del foglio il pallido impiegato estrae un anello e il dito cui era destinato forse già imputridisce in una tomba il biglietto di banca inviato con tutta urgenza e colui che ne avrebbe ricevuto giovamento ormai non mangia più non soffre più la fame un perdono per quelli che morirono tra i rimorsi una speranza per quelli che morirono disperati buone notizie per quelli che si spensero annientati dalle sventure messaggere di vita queste lettere precipitano nella morte o Bartby o umanità che si spensero che si spensero che si spensero